e ragazzi siamo qui oggi per portarvi su una piccola challenge che abbiamo vediamo persone sul mare sanno parriciare andiamo a vedere proviamo quando ok ottimo bravissimo rifallo ti faccio fare una seconda prova dai vai due e quando vuoi un'unica prova fai così fatto di palleggiare metri qui metti di qui dentro metti qua i piedi no puoi farla anche arriva che c'è più di 10 ciao ma tira sulla palla con le mani prendere con le mani poi parte pronto via 1 2 2 bravo fede 2 a dopo bellissimo mi fa fare le views mentre palleggia con la maschera dopo gli devi dare la metà dei soldi certo ecco già più degli altri oh il piede però fallo fa così paolo tu giù tu giù 1 4 bella dai ora va bene ci sei dimmi ciao sono paolo devi dire sono mattia vai fino a che non ti cade la palla ok 5 c'è voglia tanto faccio i tagli devi dire sono sono paolo 5 c prima ne aveva fatti di più diciamo più forte ok vai tela in mano parti con il pallone in mano a voi parti così da professionista 6 è umiliata attenzione ha preso il via ha preso il via saranno i pantaloncini del palermo forse sono giovanni buono ok 5 6 benissimo benissimo loro circa 22 23 bravissimo ok eccoci qui ragazzi siamo qui insieme a lorenzo il ragazzo che ha fatto i 22 palleggi per la garetta che abbiamo fatto su qui facciamo i palleggi dei passanti sulla spiaggia lorenzo si vince questo pallone lo vuole compiare ma per palleggiare così è perfetto saluto ai ragazzi e ci vediamo alla prossima domanda lorenzo 22 palleggi porta a casa grande lorenzo ciao alla prossima 22 palleggi domanda lorenzo ciao 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 ciao